E la vita non è esattamente la vita biologica ma è la vita autoaffettiva. Ora il vero artista è chi restituisce questa vera vita e quindi costruisce l'identità. Paradossalmente l'arte è vero e servite e i medici sono d'accordo su questo a ricostruire l'immaginazione, l'identità dell'individuo. Poi qui naturalmente si innesterebbe il discorso che diventerebbe molto più ampio su quale identità. È ovvio che noi siamo italiani, europei, occidentali e quando pensiamo a questo intreccio non possiamo prescindere da quella che è la cifra della nostra tradizione. Secondo me educatrice e costruttrice dell'identità umana non è tanto e soltanto l'arte quanto è anche la religione. Ma noi sappiamo che all'origine arte e religione erano strettamente implicate l'una nell'altra. È che solo in Grecia probabilmente, ma questo è un discorso che andrebbe approfondito con riferimento alle cose che si dicevano prima, è che solo in Grecia al momento del nascere della filosofia come metafisica si opera questa disunzione tra arte e religione e in qualche modo addirittura si sviluppa un contrasto. Mi pare che ci siano delle intuizioni profonde nella nascita della tragedia di Nietzsche, quando Nietzsche fa capire che in fondo lo spirito tragico dei greci è uno sviluppo della religione greca, che cosa mimava? Mimava la perdita dell'identità. La perdita dell'identità dell'uomo la mimava proprio sul palcoscenico, che era il sostituto dell'altare, cioè del luogo dove avveriva il sacrificio umano, che era appunto l'identità dell'uomo. Il teatro tragico, l'arte appollinia, recupera l'identità proprio perché sottrae l'uomo a questa decostruzione dell'identità, anzi gli consente attraverso una sintesi tra spirito appollinio e spirito idionisico di costruire. Ora, la pedagogia occidentale è questo sostanzialmente, è la Grecia, perché se andassimo in altre direzioni, che pure fanno parte della storia dell'Occidente, come la tradizione ebraica e la tradizione islamica, noi dovremmo fare discorsi un po' diversi, perché mentre il cristianesimo ha operato una sintesi tra filosofia greca, metafisica greca, arte greca e religione ebraica, la religione ebraica nelle sue intenzioni più radicali è rimasta pura ed è rimasta, come dire, un po' ha assunto un atteggiamento problematico nei confronti dell'arte, come ha fatto anche l'islamismo, perché il dio della tradizione ebraica, il dio della tradizione cristiana erano inidentificabili, mentre il dio della tradizione cristiana è un dio che si incarna e quindi si dà a vedere e quindi si offre all'azione che era l'azione dell'artista greco che modellava il corpo del dio, Apollo e altre cose. Quindi, diciamo, se noi andassimo verso altre tradizioni avremmo altre miscele, quindi voglio dire questa possibilità di usare l'arte per la cura medica è specificamente forse realizzabile nell'ambito della nostra cultura, è già più difficilmente realizzabile nell'ambito per esempio di una cultura di derivazione ebraico-islamica e non so che cosa accadrebbe alle altre culture, perché noi dobbiamo ricordarci che le altre culture sono totalmente diverse dalla nostra. Se andiamo nelle tradizioni per esempio sudamericane o addirittura nelle tradizioni pelle rosse o se andiamo in tutto il continente asiatico, allora lì gli intrecci sono completamente diversi, tanto diversi che perfino un genio come Hegel non riusciva a capirci niente e insomma, come dire, lì giudicava la luce di concetti occidentali e naturalmente alla luce di concetti occidentali le rappresentazioni artistiche per esempio del mondo orientale apparivano in formi, caos, insomma, e quindi non utili a costruire l'identità perché l'identità è ordine, è armonia come dice la tradizione occidentale. Ma di fronte ad una statuetta per esempio sudamericane o tolmeca, uno non può dire che lì c'è il senso dell'ordine o della misura. No, paradossalmente lì probabilmente l'identità scaturisce dal caos, anche se da una certa organizzazione del caos, ma da un'organizzazione diversa da quella alla quale siamo abituati noi occidentali. Mi fermerei qui. Io ringrazio il professore Lissa, a cui chiederò il permesso almeno di mettere un ampio stralcio di quest'articolo che non avevo letto nel libro di atti che faremo nel convegno, tanto più che noi abbiamo fatto, diciamo, la fase dedicata ai bambini nella formula di e-reading, cioè nel senso che con bambini di quinta e a massimo prima media non abbiamo potuto chiamare veramente i relatori, ha parlato di Kunzo per tutti e poi abbiamo chiesto degli interventi a persone che non parlavano in quella mattinata. Vorrei dire che proprio questo discorso dei due nostri professori, ma dire professore per me è molto di più che dire tante altre cose. Io sono rimasta un'allieva, una che ha voglia di imparare, che ogni volta che si confronta con loro impara qualcosa. Credo che è venuto fuori il motivo profondo di questo tentativo che ci muove in questa direzione dal 2004, però Oscom si muove dal 97, ma abbiamo fatto prima un discorso sulla pubblicità e sui linguaggi e sul gioco. Poi invece dal 2004 siamo partiti con la formazione estetica, perché proprio, diciamo, io ho trovato dovunque, in quelle prime esperienze sul gioco che abbiamo fatto, dei laboratori di ceramica, laboratori di teatro, laboratori di scrittura anche, tante, tante cose. Mi sono resa conto che ci mancava l'estetica. Cioè manca questo, manca la riflessione, manca il ricongiungimento della filosofia al resto. Non a caso, per esempio, nel liceo Margherita di Savoia, un musicale, l'unico musicale di Napoli, abbiamo come collaboratori il professore d'arte e il professore di filosofia, perché il senso è proprio questo, cioè riuscire a radunare insieme la riflessione sull'arte e l'arte. Non basta fare il papuzzetto di ceramica, quello lo facciamo fare a tutti i nostri figli senza nessuna preparazione. E quello è un intrattenimento. Queste considerazioni non sono un intrattenimento, sono però l'unico modo di costruire l'inner curriculum di cui parla la pedagogia e il curriculum nascosto che consenta al professore di creare delle piccole unità didattiche in forma di laboratorio, perché se no non ci si diverte più l'arte, come diceva Cante, con piacimento, partecipare con godimento ad un'esperienza. Quindi come facciamo a convincere un bambino di tre anni a ascoltare questi discorsi? Non possiamo fare. Però con unità didattica si può fare. Allora, l'inner curriculum, come lo costruisce il professore? Solo si ascolta queste considerazioni, se legge qualcosa. Allora, noi dell'università, io credo, siamo deputati a fare questo lavoro, perché lo facciamo per professione, che è un lavoro di traduzione anche, diciamo, dei nostri discorsi verso i professori della scuola. I professori della scuola lo applicano e nell'applicarlo ci dicono tutte le sciocchezze che abbiamo detto, perché siamo un po' troppo teorici e ci fanno capire che con un bambino di tre anni si deve parlare nel modo giusto. Credo che stiamo producendo già degli ottimi risultati ai laboratori. Chi fosse interessato sa che c'è un sito dedicato, anche YouTube, dedicati all'illustrazione di tutte queste cose e quindi credo che questo sia il sistema per realizzare qualcosa che ho visto. Sono francamente un po' emozionata perché appunto ho visto in tutti e due persone che naturalmente conoscevo, che pensavo che mi potessero dire delle cose, però mi hanno dato di più di quello che io pensavo e quindi come sempre li ringrazio di quel che mi hanno detto e spero che questa loro intervista possa far vedere anche a tutti quanti gli altri, anche in concomitanza con tutto quello che ci sarà in questo documentario, come c'è un accordo di fondo nelle cose. Il pensiero occidentale ha detto qualche cosa, una parola vera. È vero che c'è il caos, però noi abbiamo pubblicato un bell'articolo di Aiden White su Toynbee e Collingwood. La sfida dell'uomo, secondo Toynbee, è questa. Noi cerchiamo di portare ordine nel caos e di creare un mondo dell'uomo. Può essere che non vinceremo, ma almeno combattiamo la nostra partita con tutte le armi che abbiamo. Grazie ai nostri illustri intervistati.